Rivarolese e Campomorone, separate da tre punti in classifica e rispettivamente quintultima e penultima del girone, si affrontano al Piccardo per quella che è una sfida delicatissima. Le due squadre hanno paura e non danno sicuramente vita ad un primo tempo avvincente. La botta di Venturelli al quarto d'ora, neutralizzata in scioltezza da Canciani, è la prima occasione dell'incontro e questo la dice Lunga su quello che sono stati i primi 15 minuti di gioco. Sei minuti più tardi ci prova con convinzione stabile, bravo attraverso ad opporsi. La Rivarolese cresce sensibilmente, stupenda la combinazione tra Venturelli e Vitellaro con quest'ultimo che va alla conclusione, Canciani si accascia e blocca. Un lampo nel buio di questo primo tempo è l'acrobazia di Stabile che si perde alta sulla traversa. Le immagini di Mattia Ciafardo ci portano alla ripresa con le due squadre che ripartono dagli stessi 22 della prima frazione. Il secondo tempo è più avvincente fin da subito con Madagio che da fuori, di sinistro supera attraverso e porta in vantaggio il Campomorone. Tutta la gioia di Madagio in queste immagini. Si mette malissimo per la Rivarolese che al quinto della ripresa va in dieci uomini, espulso Libby per un'evidente trattenuta ai danni di Salas lanciato a rete. La Rivarolese è in bambola e il Campomorone è sempre in avanti, De Lucia ci prova con il sinistro, palla fuori di poco. Nel Campomorone Stabile si batte come un leone ma chi merita un plauso è senza dubbio Carlos Salas che combatte su ogni pallone e da spettacolo con quest'azione personale da sinistra. Punta un avversario, gli va via e per poco una deviazione non lo favorisce. Alla mezz'ora ci prova l'ottimo pozzato con il mancino, estetico attraverso in tuffo. La Rivarolese in dieci è totalmente smarrita, Madagio vuole l'1-2 con Salas, tocco di punta con il mancino, ottimo ancora attraverso in tuffo. Al trentacinquesimo protesta il pubblico locale per questo intervento deciso di Podrecca, ne ho entrato ai danni di Vitellaro. Il direttore di gara fa però proseguire. Al quarantacinquesimo, dopo alcuni attimi di tensione, Salas trova il varco giusto, supera attraverso in uscita e mette in rete il meritato gol per il numero nove che chiude di fatto il match. Al Piccardo finisce 0-2. Dopo un primo tempo davvero a varo di emozioni, la ripresa è senza dubbio più avvincente, arrivano entrambe le reti dell'incontro grazie a Madagio e Salas con il Campomorone che raggiunge quota 5 punti in classifica.